Fa caldo, nella città mia fa caldo, con lei che balla caldo, tanto quanto un forno caldo, è caldo, ma me la canto è caldo, come il tuo impianto caldo, nella città mia fa caldo, caldo. Esco di casa, una inoltrata, è già nell'aria qualcosa di un po' diverso, non è più inverno, non è più freddo, l'aria è più affosa, una rondine su di me vola, una vecchietta... Un cordiale saluto a tutti gli spettatori di LucaniaTV.it, da Pino Cardomagno, protagonista oggi da Panghino Frisco, edizione 2017, l'amico, laurea, laureata doc, Vincenzo Cosenza, che ringrazio per la sua partecipazione. Vincenzo, io ho letto un po' su internet il tuo curriculum, ma tu hai fatto un sacco di cose, ora per evitare che salto qualcosa, in breve ci puoi parlare di te. In breve diciamo che l'attività professionale parte da un lavoro in Microsoft un po' di anni fa, ora decina di anni fa, per poi passare a una società che si occupava di una tematica nascente, che era quella del coinvolgimento nella comunicazione dei blogger, cioè soggetti che fino a qualche anno fa erano sconosciuti, ma che grazie alla rete hanno ottenuto successo perché parlano di tematiche con molta passione, anche più diciamo dei professionisti, quindi attorno a loro raccolgono un seguito importante, le aziende quindi avevano interesse a contattare questi soggetti per poter coinvolgerli e quindi far passare il loro messaggio verso il pubblico. Oggi invece sono con un'altra società che si chiama Blogmeter, che invece si occupa di un altro aspetto sempre molto nuovo della comunicazione, diciamo, moderna, che è quello che riguarda il data mining cosiddetto, vale a dire la possibilità di raccogliere tutto quello che le persone dicono in rete su prodotti, servizi, le loro opinioni insomma, raccoglierle insieme e metterle a disposizione delle aziende. In passato le aziende erano portate a fare i sondaggi d'opinione, quindi a testare con dei questionari come le persone la pensavano. Ormai le persone lo fanno, diciamo, spontaneamente, quindi quello che la mia azienda oggi fa è quello di raccogliere queste opinioni spontanee, metterle a sistema e renderle, diciamo, fruibili alle aziende. Insomma, un lavoro appassionante, Vincenzo. Come ti sei avvicinato all'informatica e a tutte queste diavolerie, come diciamo noi profani? Beh, è stata un po' la passione, appunto, per le nuove tecnologie, ma poi anche per, diciamo, per l'impatto che queste nuove tecnologie hanno sul marketing, quindi sul modo delle aziende di arrivare ai consumatori, quindi di comunicare i prodotti. Quindi oggi Internet ha cambiato moltissimo questo tipo di aspetto, la comunicazione delle aziende e le novità che giorno per giorno nascono mi hanno sempre, mi hanno appassionato e quindi ho voluto approfondire questo aspetto proprio entrando in aziende anche piccole, dopo Microsoft, che però innovavano in tal senso, quindi mi permettevano di vedere nuove cose. Come ha cambiato la vita di tutti noi esseri umani, la rete? Eh, questa è una domanda enorme, nel senso che ogni aspetto ormai della nostra vita è cambiato, da quelli più piccoli, quindi la relazione proprio con gli altri, magari con persone che si erano perse di vista attraverso, per esempio, Facebook, e anche rimanere in contatto proprio attraverso Facebook e far sentire la propria voce cambia moltissimo il modo di comunicare, di essere, di stare in relazione, ma poi cambia appunto anche molto il modo in cui le aziende vedono i consumatori, perché mentre in passato li vedevano come un soggetto passivo a cui destinare una certa pubblicità e basta, il consumatore se la sarebbe bevuta, oggi i consumatori sono molto più svegli e quindi sono pronti, sono i primi anche a criticare l'azienda e questo può provocare anche delle crisi importanti per l'azienda e quindi c'è bisogno di monitorare, di tenere sotto osservazione tutto questo. Ma poi ha cambiato la politica, perché appunto le persone si fanno sentire, fanno sentire la loro voce in rete, quindi questo diventa una sorta di pressione per la politica e gli amministratori, quindi dovrebbe spingere a fare un po' meglio rispetto al passato, così come la scuola e tanti altri aspetti, tutti direi gli aspetti della nostra vita. Vincenzo, domanda sempre da profano, ma siamo tutti spiati con sta rete? No, diciamo che da questo punto di vista si fa molto terrorismo in rete, bisogna fare attenzione, bisogna essere più consapevoli rispetto al passato, rispetto a qualunque altro mezzo di informazione, di comunicazione, la televisione per esempio, la rete richiede un surplus di consapevolezza da parte delle persone, e quindi devono un po' studiare in più per capire quali sono effettivamente gli elementi che potrebbero portare a una invasione della privacy oppure a una maggiore visibilità delle cose che invece uno vorrebbe tenere per sé. Lo stesso Facebook è uno strumento straordinario da questo punto di vista, perché per me ha un livello di granularità della comunicazione molto sofisticato, per cui io posso decidere di comunicare da solo direttamente con te in privato e siamo sicuri che quella cosa non uscirà fuori, così come posso decidere di comunicare con due, tre o tutte le persone. Quindi sta un po' all'utente capire come gestire questo tipo di funzioni, però in realtà non c'è una sorta di spionaggio persona per persona. È vero che c'è una sorta di tracciamento però a livello di gruppo, nel senso che Facebook sa benissimo quante persone sono sui utenti, quanti anni hanno, da dove provengono, eccetera. Questi dati in forma aggregata vengono vendute agli inserzionisti che vogliono fare pubblicità. Se tu hai un negozio e vuoi fare pubblicità, far vedere un certo messaggio agli utenti di laurea, oggi con Facebook puoi farlo, però tu non saprai mai quali sono gli utenti di laurea a cui arriva il messaggio, questo lo sa solo Facebook, sai solo che quel messaggio arriverà sicuramente agli utenti di laurea. Quindi un grosso passo in avanti per chi fa commercio, ma allo stesso tempo non c'è una lesione della privacy delle persone. Ecco, il terrorismo in rete che dicevi tu, giustamente la paura in rete, il siperbullismo, queste cose che incominciano un po' a preoccupare. Che consigli dai, se c'è qualche giovane, speriamo di sì, che ci sta seguendo e che sta sempre collegato in rete? Il consiglio è un po' il consiglio di sempre, assolutamente, è stare attenti alle persone che appunto non si conoscono e che in rete potrebbero fare una richiesta di contatto, di amicizia. Come è sempre capitato nella vita dell'umanità, insomma, la massima attenzione è quello che fa meglio. Però è chiaro che la rete moltiplica queste occasioni di contatti e quindi bisogna soltanto appunto stare attenti e non concedersi troppo, ma valutare attentamente persona per persona. Tu hai avuto anche un'esperienza televisiva, so io. Raccontacela. Sì, è un'esperienza televisiva con Virus su Rai 2, con Nicola Porro, che adesso è su Mediaset. Insomma, uno degli autori della trasmissione mi contattò proprio per questo tipo di attività che faccio in rete e insomma l'interesse lì era di cercare di capire le conversazioni degli italiani attorno agli argomenti politici per poi, insomma, mostrare in televisione un po' quello che era lo specchio della società attraverso la rete. Quindi è stata sicuramente una bella esperienza collaterale, diciamo, a quella lavorativa. Quindi... Ti è piaciuto? Sì, assolutamente sì, anche perché poi la televisione, come sai, è una vecchia... In quel caso era un po' più in prima linea, anche se mi è sempre piaciuto stare dietro le quinte. Senti, Vincenzo, hai seguito per questa trasmissione di Porro, che detti sei fatti degli italiani? Gli italiani e la politica. Che è venuto fuori? Eh beh, diciamo, è molto sfaccettata, diciamo, la questione perché poi, diciamo, c'è sicuramente, dalla rete si può sicuramente raccogliere una sorta di umori della rete. Diciamo, l'italiano è molto umorale, a seconda degli avvenimenti che accadono cambia opinione, c'è un'opinione abbastanza volatile. forse molto influenzabile sia dai mezzi di comunicazione di massa che comunque rimangono ancora molto presenti, ma anche ormai dalla rete, cioè dai gruppi di pressione in rete che riescono a condizionarli. C'è sicuramente una disaffezione alla politica, e questo ormai non c'è bisogno della rete, ormai, insomma, è palese. Voglia di cambiamento, sì, però gli stessi italiani non sembrano essere i primi disposti a cambiare qualcosa del proprio privato. Vincenzo, tu non stai a Lauria, stai a Roma, ma non è che stai in Daseberio, stai a... Che ti manca di Lauria quando stai a Roma? Lasciamo stare gli affetti, la famiglia, quello è sempre sottindeso. Fuori dagli affetti familiari? Fuori dagli affetti familiari probabilmente il clima, cioè nel senso il clima nel senso non un senso meteorologico, ma proprio di familiarità che va al di là degli affetti familiari, ma di amicizia, di comunità, che comunque un paese come Lauria ancora conserva, diciamo, mentre una grande città come Roma non c'è più. E non lo può avere come è composta Roma. Assolutamente. Secondo te decolla Lauria? Tu sei lauriota, va bene che ripeto, stai spesso a Roma, molto a Roma. C'è qualcosa che cambieresti perché questo paese sia più conosciuto, abbiamo un quasi santo, abbiamo tante altre belle realtà, però secondo me, io lo dico ogni anno che faccio questa trasmissione, non la vedo decollatissima, se si può dire così. Tu che ne pensi? Assolutamente d'accordo. Sarà che sono un po', diciamo, deviato dal mio tipo di attività, però mi sembra che anche la comunicazione, c'è un aspetto fondamentale oggi, che è la comunicazione delle proprie ricchezze, potenzialità manchi completamente, laddove invece altri paesi della Basilicata, proprio sulla comunicazione, hanno costruito e potenziato quello che hanno. Quindi sicuramente questo è un aspetto che manca e che potrebbe aiutare. È chiaro che oltre alla comunicazione poi ci vorrebbe anche un substrato, diciamo, di persone che dovrebbero sostenere la comunità e mi pare che un po' questo si stia perdendo, ma per questioni proprio, diciamo, lavorative ed economiche. Io per primo, diciamo, in questo, diciamo, sono anche, me ne faccio anche una colpa, perché poi non riesco neanche a portare un po' della mia esperienza, comunque un aiuto, diciamo, alla comunità. Che poi è un paese strano, Lauria, perché le associazioni ci sono, forse anche troppe. Le cose si fanno, ma purtroppo scarseggia il pubblico, scarseggia la partecipazione del pubblico. Allora, cosa vogliamo? Ancora non si è capito, o tu l'hai capito, che sei più giovane di me, quindi più sveglio. No, no, sicuramente Lauria soffre anche un po' di, come dire, siamo poco disposti probabilmente a sostenere chi fa cose. Quindi c'è sempre una sorta di ritrosia, o magari gelosia, che spinge, diciamo, a non dare grande sostegno. Questo è un po' una cosa, mi sa, atavica, di Lauria, quando c'era il cinema, qui, molti preferivano andare a Praia, questo è il classico esempio. Quindi questo un po' penalizza, insomma, le potenzialità di crescita. Tornando alla rete, tornando al tuo lavoro, alle ultime domande che siamo giunti ormai, Vincenzo, il mondo, il futuro, è tutto in rete? Da qua al 2030, al 2040, come sarà il mondo? Sì, sì, la rete è ormai un aspetto irrinunciabile, non ce ne accorgeremo neanche, c'è chi parla di rete come acqua, dell'acqua ormai non ci rendiamo conto, dell'elettricità, non ci rendiamo conto che esiste un'infrastruttura che ce la porta a casa. Sicuramente saranno fatti, ci saranno grossi passi in avanti, ci sarà molta più automazione rispetto al passato, oggi parliamo di, diciamo, di intelligenza artificiale, è come qualcosa di fantascientifico, un domani sarà alla portata di tutti, sarà l'intelligenza all'interno degli oggetti della nostra casa e questo dovrebbe aiutarci in qualche modo e sostenerci, toglierci, darci il tempo, restituirci tempo che invece ora dedichiamo a cose futili. Quindi con l'automazione e con l'intelligenza artificiale dovremmo riuscire a fare meglio le cose che facciamo oggi. Quindi si va sicuramente verso un'automazione, una maggior presenza della rete e dell'intelligenza artificiale. Chiaramente questo porta, dovrebbe portare un surplus di consapevolezza nelle persone, quindi far sì che appunto le persone dedicano più tempo alle cose importanti anziché a altre cose più futili o automatizzabili che appunto gli automi potrebbero svolgere e quindi anche un surplus di consapevolezza nella gestione della privacy che comunque continuerà ad essere un tema fondamentale nei prossimi anni. Noi ce l'auguriamo che questa rete, ma l'azienda tua per carità, non ci sentono, la rete in generale, ma ci trani in inganno qualche volta? Dì la verità, tu ci lavori, non si sputa nel piatto dove uno lavora, ma c'è qualche... ne fessi io ancora una volta insomma. Sicuramente, cioè c'è chi sa utilizzarla meglio di altre e quindi essendo un enorme diciamo strumento di persuasione perché lo è, perché arriva in maniera virale anche a molte persone, sicuramente può dar luogo a questi fenomeni. Quindi ancora una volta le persone devono stare un po' più sveglie rispetto al passato e quindi utilizzare la rete anche per cercare fatti alternativi o comunque cercare le prove dei fatti e non fermarsi al primo link condiviso da un amico perché l'abbiamo visto anche con i vaccini e tutto il battaggio che è stato fatto in rete lì gruppi di pressione antivaccino hanno portato avanti delle tesi senza alcun fondamento e le persone le hanno prese un po' senza verificare i fatti e quindi la verifica dei fatti diventa un elemento fondamentale secondo me anche un elemento di insegnamento per la scuola del futuro come prima come in passato si studiava la lettura del giornale oggi è importante sarebbe importante studiare la rete e come verificare i fatti attraverso la rete quindi un ultimo appello Vincenzo diciamo ai giovani a tutti quanti meno giovani usate la rete per divertirvi tra virgolette ma anche per farne un uso buono e importante assolutamente sì usate la rete con consapevolezza andando a fondo agli argomenti e non fermandosi soltanto alla prima informazione che si legge ma approfondendo e cercando di trovare di fare fact checking come si dice cioè arrivare a verificare i fatti e non a versi qualunque cosa venga condivisa bene io ringrazio Vincenzo Cosenza per questa interessante discussione grazie mille Vincenzo grazie anche a voi che ci avete seguito arrivederci alla prossima panchina fa caldo nella città mia fa caldo con lei che balla caldo tanto quanto un forno caldo è caldo ma me la canto è caldo come il tuo impianto caldo nella città mia fa caldo caldo esco di casa una inoltrata e già nell'aria qualcosa di un po' diverso non è più inverno non è più freddo l'aria è più affosa una rondine su di me vola una vecchietta l'ombre